Imprese che resistono, mai slogan fu più azzeccato e anche chiaro ad intendersi. Le imprese non ce la fanno più e naturalmente le imprese che operano in Campania in maniera particolare. L'ingegnere Pietro Di Lorenzo è il responsabile regionale di questa libera associazione di imprenditori. Che cosa vi proponete in particolare? È dal 2009 che ci occupiamo delle imprese che resistono e dal 2009 che cerchiamo di fare rete tra tutti quanti quelli che la mattina alzano la sala cinesca e sperano che nel corso della giornata riescano a raggiungere un risultato che è quello di essere presenti sul territorio, di fare profitto legittimo e di poter legittimamente pagare le tasse giuste a questo Stato che ahimè restituisce ben poco di quello che prende. Gli imprenditori sono già presenti con numerose associazioni sul territorio a livello nazionale e regionale. Perché voi avete sentito, avvertito questa necessità di una nuova associazione? Anzitutto c'è la libertà di associarsi, di mettersi insieme. Però noi notiamo che le associazioni tradizionali di categoria sono essi stessi degli elementi molto burocratizzati. Mi passi questo termine. Cioè non riescono a intervenire sui problemi in maniera snella e soprattutto non fanno degli argomenti che tutti i giorni interessano gli imprenditori una bandiera vera, una battaglia corretta. Come quella per esempio che ha interessato imprese che resistono è quella sulla certezza del pagamento. Noi riteniamo che questo elemento sia un vulnus, come si usa dire, per tutte le imprese, per tutti quelli che svolgono attività imprenditoriale nella nostra Italia. Cioè qui c'è in Italia la non certezza del pagamento. Che secondo me è uno dei principi, è una delle condizioni che mina all'origine ogni forma di libera imprenditoria. In Italia non si è sicuro se viene un cliente, ci rivolge un incarico oppure compra dei materiali, non si è sicuro se una volta uscita dall'azienda è paga oppure no. La certezza del pagamento non c'è. L'unica cosa certa è che su quella fornitura, su quella fattura bisogna pagarci le tasse, bisogna pagarci l'IVA, ma poi se quella fattura viene effettivamente pagata nessuno sembra fregarsene. E allora noi ne abbiamo fatto di questo argomento una battaglia in cui chiediamo alle istituzioni, e quindi questo è uno dei principi importanti che ha ispirato le attività iniziali, che dal 2009 imprese che resistono sta portando avanti, di ottenere quegli elementi certi per poter continuare a fare imprese in Italia. Sabato prossimo la prima convention regionale di questo sodalizio. Vi vedrete a Limatola, in un albergo della cittadina del Beneventano. Avrete una piattaforma da proporre ai vostri associati. E innanzitutto ci si può ancora associare, immagino, no? Aderire a imprese che resistono è facile. Basta andare nel sito www.impresicheresistono.org e da lì compilare un format e aderire. L'adesione è assolutamente libera e gratuita. L'incontro di sabato servirà a tutte le imprese della Campania per poter fare due cose. Prima di tutto strutturarsi, organizzarsi in dipartimenti omogenei, in base alle tipologie dell'attività imprenditoriale svolta. Poi di mettere sul campo una serie di proposte che noi intendiamo rivolgere alla Regione Campania, ma prima di tutto agli enti territoriali di appartenenza. Noi non possiamo più accettare che imprese che magari stanno in una condizione di fallimento quasi, oppure di difficoltà operativa, oggi subiscono dai comuni dove hanno svolto attività, dove hanno pagato le tasse, dove hanno magari assunto tanti dipendenti, che queste aziende debbano pagare, ad esempio la Tares o l'Imu, su capannoni che sono di fatto inattivi. Oggi vediamo che i comuni hanno prevalentemente tassato le attività imprenditoriali. Cioè sul 50% della Tares cade a carico dei capannoni, delle attività dei ristoranti, delle attività imprenditoriali, e questo rappresenta un carico che le aziende non possono assolutamente sopportare, prima di tutto perché non stanno svolgendo un'attività così come era nei tempi passati. Ma poi non è giusto che in cambio non hanno nessun servizio, ma devono in qualche maniera contribuire a sostenere un'amministrazione, un'ente, che sia essi comune, sia essi dei consorsi, che in effetti in cambio non hanno dato assolutamente nulla. Anche gli imprenditori in questi mesi, in questi anni, hanno pagato un prezzo salatissimo. Purtroppo la cronaca continua a consegnarci episodi di imprenditori che si tolgono la vita, artigiani che si tolgono la vita, a volte per somme irrisorie o qualcosa di inaccettabile. Oggi diciamolo tutta e approfittiamo di questa occasione per dire che l'imprenditore oggi è in un angolo. È sommerso da problemi nei confronti del fisco, nei confronti delle agenzie delle entrate, nei confronti di Equitalia e nei confronti di una burocrazia che è opprimenti più che mai. Per non parlare delle altre cose delle banche, abbiamo detto ormai, le banche hanno chiuso i rubinetti del credito da anni nei confronti degli imprenditori. E allora oggi l'imprenditore della nostra regione, in particolare, ma italiano anche, si trova di fronte a un muro che è rappresentato da tutti questi ostacoli. Noi abbiamo detto all'amico imprenditore che come noi tutte le mattine alza la sala cinesca, bene, c'è un'associazione libera che può starti vicino, può aiutarti a non farti sentire più solo. E quindi questa occasione di sabato 29 marzo alle ore 10 a Limatola, all'albergo Ariet, di confronto servirà principalmente a questo. Ci saranno imprenditori da tutta la regione, ma ci saranno anche istituzioni, associazioni e sindacati. Ci sarà la possibilità anche di interloquire con una giornalista che è Samantha Di Persia, che ha scritto, manco a dirlo, un libro che si chiama appunto Imprenditori suicidi, in cui ha raccolto le testimonianze di situazioni estreme che noi pensiamo non si debbano più ripetere. Però, ahimè, temiamo che continueranno di fronte a una situazione che continua a essere terribile e brutta per le imprese. Noi offriamo questa opportunità. Diciamo che non è certamente l'ultima opportunità per le imprese, penso che ce ne saranno altre, perché non può continuare così un'Italia che è costituita da una struttura principalmente composta da piccole e medie imprese, un'Italia che oggi mette all'angolo gli imprenditori, noi non pensiamo che sia un'Italia giusta. Grazie per la visione!